Esilarante l'eccellente imitazione che Virginia Raffaele ha fatto oggi, 12 febbraio 2016, al Festival di San Revo di Belen Rodriguez. Una imitazione perfetta degli sciagli, delle miei particolari, ma soprattutto divertentissima. Belen appare agli occhi infatti di Virginia come molto svampita, secondo la mia opinione, che si mette molto in mostra e appare anche un po' stereotipizzata, magari qualche stereotipo, qualche preconcetto, ma non pregiudizio, la bella Virginia Raffaele ce l'ha e quindi ha voluto, tra virgolette, inserirlo anche nella imitazione che ha fatto di Belen Rodriguez. Virginia Raffaele in questo ruolo di imitatrice di Belen è perfetta, riesce alla grande a essere più che brava, sa dimostrare tutta la sua abilità, tutta la sua bravura, tutto il suo impegno e in questi pochi attimi che abbiamo avuto il piacere di vederla, in data odierna, 12 febbraio 2016, abbiamo apprezzato tanto il personaggio che non è nuovo perché Virginia e già lo hanno fatto, lo hanno interpretato in altri momenti, ma è un personaggio che fatto da appunto Virginia Raffaele sa essere veramente una punta di diamante, un gioiello da apprezzare e da stimare. È stato capace questo personaggio fatto da Virginia Raffaele di divertire gli altri, di entrasmarli, di rallegrare le serate e soprattutto questa penultima serata. Hanno dato infatti, devo riconoscere, infatti devo riconoscere che in alcuni momenti la bella Virginia, nel di Belen, ho visto che calca molto la mano, il fatto che mostra molto il lato B, che mostra molto le gambe, il corpo, insomma una ragazza che sa slegarsi e sa essere veramente all'altezza della situazione. Complimenti dunque a Virginia per l'imitazione straordinaria e pienamente convincente, il video termina qua, iscrivetevi, commentatevi, fatemi sapere che ne pensate e un carissimo saluto a tutti.